Parmigiana di zucchine rossa o bianca, oggi la faccio rosè, è buonissima, facciamola insieme. Iniziamo! Per prima cosa metto l'olio in padella, un po' di cipollina, una volta dorata metto la passata di pomodoro, regolo di sale e faccio cuocere per 15 minuti senza coprire. Ora dopo aver lavato, asciugato e privato le zucchine delle estremità, le affetto sottilissime con un pela patate, poi le passo nel pan grattato e le frigo in abbondante olio di semi di arachidi, 30-40 secondi per lato, mettendole su carta astorbente una volta che saranno belle dorate. Fritte tutte, unisco la besciamella alla salsa e dopo aver mescolato bene, metto sul fondo di una pirofila qualche cucchiaio di salsa, faccio un primo strato con le zucchine, aggiungo il prosciutto cotto, il formaggio morbido a fette, ancora salsa e dalla stessa maniera faccio altri strati mettendo anche il parmigiano fino a finire tutti gli ingredienti a disposizione. Completata la parmigiana, faccio cuocere per 40 minuti a 180 gradi in forno statico già caldo, poi la sforno e la faccio intiepidire per almeno un'oretta e guardate qui che spettacolo e quanto è buona! Mamma mia!